Ciao a tutti! La più grande debolezza di un uomo e 6 modi per usarla a tuo favore. In questo video voglio spiegarti qual è la più grande debolezza di un uomo e come tu puoi usarla a tuo favore. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberty dei Narcissisti con Massimo Taramasco. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. La più grande debolezza di un uomo e 6 modi per usarla a tuo favore. Allora, un uomo può sembrare freddo, duro di cuore, serio, inespressivo, ma ha una debolezza che tu puoi usare a tuo vantaggio. Tutti gli uomini hanno un punto debole, un tallone d'Achille, e nel momento in cui riuscirai a trovarlo, riuscirai a conquistarlo. Ecco perché in questo video, diciamo, spiego quali sono i punti deboli di un uomo e come sfruttarli. Allora, il primo punto debole è che un uomo potrebbe, diciamo, temere, da un certo punto di vista, l'abbandono, di essere abbandonato, di essere lasciato. Questo è un qualcosa che può capitare abbastanza spesso e puoi capirlo facilmente, ad esempio, parlando di abbandono. Se parli di abbandono, noti che lui si tocca le labbra, vieni in avanti, da dei segni di gradimento, quello è un segno che teme l'abbandono. E allora avrai un sistema rapido, molto efficace, per ottenere dei risultati. Ad esempio, dovrai imparare a premiarlo e punirlo con l'abbandono. Cioè la punizione è l'abbandono. Quando tende a fare delle cose che non... che, diciamo, che non ti va, tu lo, come dire, lo punirai, tra virgolette, allontanandoti, chiudendo il telefono. Così tenderà a proiettare su questa situazione. E invece sarai più disponibile quando sarà più presente e quando farà quello che tu desideri, fondamentalmente. Tra l'altro questa stessa strategia di premi e punizione può essere utilizzata paro paro con un'altra tipologia di uomini che però sono anche abbastanza presenti, diciamo, che sono quelli che hanno l'esigenza di tenere sotto controllo una donna, cioè di controllare, hanno un'esigenza di possessività. Tra l'altro questa è una caratteristica che rispecchia, ad esempio, moltissimo il seno del toro. Il seno del toro ha questa caratteristica di essere possessivo e tutto. E quindi tu li darai, ti farai, tra virgolette, possedere se sarà allineato con le tue esigenze. E invece, come dire, chiuderai il telefono, non li risponderai, sarà imprevedibile, non gli darai possibilità di controllarti quando invece non fa quello che tu vuoi che faccia. Ecco, questo è un altro modo di gestire la cosa. Ci sono altri uomini, invece, un altro punto debole di un uomo è che hanno insicurezza e disistime in se stessi. E lo capisci perché tendono ad essere insicuri. Questa è una debolezza che tu puoi utilizzare a tuo favore se ti rendi conto che un uomo ha questo tipo di caratteristica tu puoi semplicemente utilizzarla, diciamo, dandogli degli ordini. E vedrai che sarà pronto ad eseguire gli ordini sarà pronto ad eseguire gli ordini che tu gli dai. Sembra strano, ma le cose funzionano in questo modo. Quindi, in questi casi, quando ti rendi conto che un uomo tende ad essere un po' insicuro, a vivere un po' di disistima e quindi ad essere eterodiretto, dagli ordini comandano. Sennò andrà alla ricerca di una donna che lo comanderà a bacchetta. Esiste poi un altro punto debole di un uomo che è quello dell'esigenza di proteggere la donna. Questa caratteristica ce l'hanno gli uomini soprattutto che hanno vissuto un conflitto materno. Gli uomini che hanno vissuto un conflitto materno tendono ad avere questa caratteristica per cui si, come dire, restano in... restano bloccati e si coinvolgono, diciamo, come punto debole quando una donna si dimostra un po' fragile e gli fa sentire come angeli protettori, diciamo così. Quindi, se noti questa caratteristica e lo noti perché questo tipo di uomo ha un atteggiamento un po' materno però, paradossalmente, può essere conflittuale con la madre quindi, proprio a causa del conflitto materno lui vuole ricoprire il ruolo di madre universale e questa è un'altra caratteristica. Un altro punto debole di alcuni uomini è la vanità. Sono vanitosi al punto tale che vanno alla ricerca, diciamo, di una donna che li possa ammirare. Hanno proprio l'esigenza, diciamo così di essere ammirati da una donna. Questo è molto utile se tu capisci che hanno questa caratteristica e lo capisci perché sono uomini che cercano di ostentare ma magari ostentano auto ostentano, come possiamo dire abiti firmati, gadget firmati e questo è un qualcosa che tu puoi utilizzare a tuo vantaggio tranquillamente facendogli pensare, di ammirarlo come premio in questo caso ma invece non prendere in considerazione non dargli soddisfazioni a questo punto di vista quando non è allineato con le tue esigenze. Questo è un'altra modalità molto utile per poter, diciamo, tra virgolette conquistare un uomo sfruttando il punto debole. E poi un altro punto un altro punto debole di un uomo è il, anche se sembra strano il bisogno di tenerezza sembra strano ma negli uomini le coccole, tra virgolette la tenerezza produce endorfine produce ostitocina è un qualcosa che coinvolge sembra che gli uomini siano interessati al sesso sicuramente lo sono alcuni ma si innamorano di più con le tenerezze e l'affettività mentre nel dono, ad esempio l'ossitocina viene prodotta maggiormente attraverso la sessualità ecco che quindi tu puoi utilizzare questa caratteristica degli uomini dando e togliendo anche qua tenerezza in senso generale in un modo molto utile per per innamorare gli uomini e poi l'altro punto debole che questo hanno tantissimi uomini è la paura della concorrenza perché già dai tempi preistorici gli uomini andavano a cercare insomma si agganciavano moltissimo quando erano in competizione e quindi devi tenere presente che devi mantenere una concorrenza devi mantenere una situazione in cui ci deve essere sempre qualche antagonista l'utilizzo sapiente degli antagonisti è sfruttare un punto debole dell'uomo e può farli innamorare tantissimo molto di più di quanto anche la tua più fervida immaginazione possa immaginare bene per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Tramasko Ufficiale su TikTok e ti ricordo inoltre che sul canale di iscriverti al canale iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo inoltre che sul canale è anche possibile abbonarsi grazie Grazie.